Amici mettonati sul canale 2000 giri elaborazione autosportive, siete interessati o avete una macchina storica e avete la necessità ogni tanto di tirarla fuori, di usarla e avete i problemi con il numero di passaggi, con le normative abbastanza faraginose che il comune di Milano ha messo in atto per poter utilizzare questo genere di veicoli, seguite questo video, scoprirete qualche cosa di interessante, sigla! Come premettevo, visto che anche io ho una macchina storica e devo sottostare alle normative che sono state imposte per tutte le macchine che hanno il CRS dai 20 ai 30 anni e a seconda che questa macchina o il proprietario di questa macchina sia residente a Milano o sia residente fuori Milano, il comune prevede 25 utilizzi annui per coloro che hanno la residenza a Milano oppure 5 utilizzi annui per coloro che sono residenti fuori Milano, sono un entro nel mento, sono tanti, sono pochi, dal mio punto di vista sostanzialmente è un numero equo anche perché in questo numero di passaggi non vengono conteggiati i sabati e le domeniche, per cui sappiamo perfettamente che una macchina storica nella stragrande maggioranza dei casi viene utilizzata per fare il giretto il sabato o la domenica, non per andare in giro a lavorare durante la settimana, quindi il sabato o la domenica non è conteggiato e un numero di 25 utilizzi è più che sufficiente per poter fare la normale manutenzione, andare a fare la revisione, utilizzarla per una necessità di qualunque genere. L'unica cosa che fino a oggi era dal mio punto di vista sbagliato, concepita in maniera sbagliata, era il fatto che uno chiaramente doveva, c'era tutta una procedura, c'è una piattaforma ATM dove uno deve inserire i dati della propria macchina, inserire, in questo caso stiamo parlando della macchina storica, inserire il CRS o la targa oro, tutta la documentazione veniva recepita da chi gestisce la piattaforma, una volta che tutti i dati erano congruenti, la macchina compare, se uno va a vedere il sito ATM, vede la sua macchina e vede il grado a quali vincoli deve sottostare. Come dicevo, fin qui tutto bene, quello che assolutamente era sbagliato, mi sono sempre posto la domanda, ma perché hanno fatto una stupidata di questo genere? Il fatto che se io voglio utilizzare la macchina domani, non posso prenderla e utilizzarla e mi scalano i chilometri in maniera normale, no, devo prenotare, come se io dovessi prenotare il biglietto del treno, devo prenotare un giorno prima, segnando il giorno in cui utilizzerò la macchina, quindi entrare nel sito, cliccare sulla targa, mettere l'orario di ingresso, l'orario di partenza, l'orario di uscita, indicare il giorno esatto e solo così il giorno dopo posso utilizzare la macchina senza incorpotevo, utilizzare la macchina senza incorpotevo, questa è sempre stata, secondo me, una forma per limitare l'utilizzo di queste macchine, per creare difficoltà ai cittadini e per quelli sprovveduti che purtroppo non sapevano di questa cosa, me compreso, drenare un sacco di soldi ingiustamente in tasse. Una volta tanto, mi sono veramente stupito perché quelli che lavorano al Comune di Milano, il grado medio è quello di un asilo infantile, una volta tanto si vede che qualcuno si è svegliato, gli avranno fatto notare che con poco si riusciva a risolvere il problema e hanno dalla settimana scorsa, lì basta entrare sul sito, come dicevo, punto ATM, entrare nella propria area personale, cliccare sulla macchina che si intende utilizzare come macchina storica e flaggare, dare l'ok sul fatto che gli addebiti, non sono gli addebiti, cioè il fatto di utilizzare i vari giorni avvenga in automatico, che è la cosa più logica del mondo, Milano è piena di telecamere, la cosa più logica del mondo, io decido oggi o domani di utilizzare la macchina, esco, quel giorno lì, quella targa verrà presa da una telecamera e il giorno dopo sul sito comparirà che quella macchina lì avrà un giorno in meno di permesso, per cui da 24 giorni la mia macchina da 25 giorni passerà a 24 giorni, uno basta che si tenga monitorato il numero di giornate, sapendo che oltre i 25 giorni la macchina non potrà più essere utilizzata se non durante i 6 metri domeniche o dopo le 7 e mezza, così è un sistema che funziona, quindi devo dire che in maniera veramente magica e volevo appunto trasferirvi questa informazione perché neanche io la sapevo, ne sono venuto al corrente veramente in maniera del tutto casuale, sono riuscito, non è una cosa molto semplice, comunque si riesce a fare questa modifica entrando nel proprio profilo personale, una volta che si mette a posto la posizione di quella macchina diventa molto, ma molto più semplice utilizzarla quando uno vuole, in qualunque momento uno vuole. Io spero di avervi dato un'informazione utile anche in questo senso, per qualunque altro genere di informazione o mi volete scrivere, io rispondo come sapete, rispondo sempre a tutti, mettete un bel like di incoraggiamento e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!